la mia gonna la mia gonna ridatemela ridate a quella donna i suoi vestiti avanti ridammi la mia gonna ma amore mio avanti restituiscilo oh ragazza l'ha fatto apposta come ho potuto farlo di proposito amore mio non vuoi andartene è perché è in prigione restituiscilo ci sto provando o cielo non si toglie sto parlando non è stato perché lo volevo non avrei mai pensato che si potesse fare una cosa del genere oggi è stato il mio giorno peggiore amore mio guarda qui tutto quello che sto facendo non funziona niente sai una cosa è quello che vi meritate amore mio perché l'hai fatto non mi cercherai mai più vero fred fuori amore mio ascoltami torna indietro perfetto gli uomini come te meritano di uscire molto di più amore mio posso chiederti cosa sta succedendo qui tesoro quel tipo mi ha tolto la gonna pensi che io sia una specie di clown ascoltatemi qui in realtà credo di essere un po un clown la prossima volta che ti metti contro la mia ragazza no 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 aspettate ho un modo migliore per risolvere questo problema è vero c'è sempre un altro modo per risolvere le cose puoi chiedermi tutto quello che vuoi non è quello che stavo per dire ma mio piccolo amore il mio telefono è piuttosto vecchio sai e potrebbe pagarci in denaro vuoi saperlo potete continuare a fare quello che state avanti colpiscimi qui bussa bussa no 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 dammi i soldi amico mio guardami pensi che io abbia dei soldi devi avere qualcosa di prezioso andiamo ho fretta vuoi saperlo ho appena ricevuto il mio stipendio qui e lo trasferirò a te beh credo che un migliaio di dollari sia buono no riesco a vedere il tuo account avete più soldi è possibile trasferire di più ma poi finirò i soldi cosa farò della mia vita no fermo fermo cosa c'è di più te ne manderò altri ma amore non è abbastanza per comprare il mio cellulare penso che possiamo prendere il suo amore cosa ne pensate no non il mio cellulare l'ho appena comprato è tutto a posto dammelo ok ma almeno fatemi togliere il mio chip da lì no 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 mi stai dando sui nervi vero ti stai divertendo con la mia faccia no certo che no ti ricordi cosa ho detto sono il clown oh amore grazie quindi va tutto bene giusto posso andarmene adesso addio vai fuori di qui fuori di qui oh amore mio sei il migliore no amore puoi sempre contare su di me vedi la mia vita quindi andiamo scattiamo qualche foto amore amore mio aspetta 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 cosa c'è fred calmati amore mio lasciate che vi spieghi spiegare cosa fred non credi che abbia visto il tuo sorrisetto quando hai tolto la gonna quella donna no amore mio calma è vero ve lo dico io non uscirà prendetelo tirate da qui e io tirerò da qui per farvi vedere ah sì dammelo prendetelo vedi l'hai visto amore guardate dentro la gonna vedete se c'è qualcosa lì ehi amore sì c'è vedi amore non sono stato io non è stato perché lo volevo sì ma perché l'ha fatto allora non lo so il suo ragazzo è arrivato lì e sembrava un po' pericoloso oh no fred e non è possibile che tu non abbia fatto nulla avete mai visto le dimensioni delle vostre braccia oh no smettete di avere paura sono solo grande sembrava che lo sapesse ma che dire che cosa è successo o mi ha preso il telefono e mi ha fatto inviare i soldi dal conto e ha detto che mi avrebbe lasciato ho avuto paura avanti il vostro amore lo risolverà amore mio hai davvero intenzione di fare questo per me lo farò amore certo che lo farò è una buona cosa credo che stiano per andarci sì allora andiamo ehi bullo posso chiederle perché l'ha fatto posso parlare con il bel ragazzo della balanchita vuoi parlarmi eh forza voglio che tu mi restituisca tutto quello che hai preso al mio ragazzo non restituirò nulla di ciò che ho preso al tuo ragazzo in realtà chi è il tuo ragazzo eh voglio che restituisca il cellulare e i soldi che hai preso al mio ragazzo dov'è fred fred vai amori vai vai prendetelo faccio il tifo per te ok vai vai prox davvero avanti restituiscilo non restituirò nulla non c'è motivo di forzarmi no prestate molta attenzione dite a quell'uomo coraggioso di seguirmi per vedere se è abbastanza coraggioso non lo restituirò sei sicuro di non volerlo restituire amore cosa sta succedendo qui amore quella piccola donna pensi di essere abbastanza arrabbiato per restituire le cose del suo ragazzo tesoro ti darò un'altra possibilità non vuoi davvero restituirlo quindi risponderò forte e chiaro se non lo restituite voi due vedrete cosa farò posso farcela non lo restituirò bene bene amore restituiscilo ridatele il cellulare forza vai in caso contrario sarà peggio anche tu tesoro qui 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 cavo del telefono cellulare guarda qui non ti voglio incrociare il mio cammino ancora una volta altrimenti vieni con me vai 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 oh tesoro andiamo lasciate che vi aiuti forza 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 grazie a tutti